Cara Giorgia Meloni, le devo fare tutti i miei complimenti per un'operazione politica davvero molto, molto brillante. In questi giorni, nel cuore di Roma, nel cuore dello shopping natalizio di Roma, in piazza Risorgimento, tra le vie dello shopping e San Pietro, c'è la festa storica di Atreiu, la festa del suo movimento, del suo partito politico. Abbiamo visto arrivare tutti a parlare con lei e a chiederle i voti per il Quirinale, a lei e al suo movimento. È arrivato Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, è arrivato Giuseppe Conte, capo del Movimento 5 Stelle, è arrivato il ministro della Giustizia Marta Cartabia, è arrivato il ministro Giorgetti, tutti intorno a lei. Non si era mai vista una forza così istituzionale, così al centro del sistema, come il suo partito, unico partito all'opposizione. E fa specie perché nel 2018, alla festa di Atreiu, soltanto tre anni fa, era ospite d'onore Steve Bannon. Steve Bannon, l'anima nera del trumpismo, l'uomo che è stato arrestato per cospirazione e che poi è uscito di galera solo grazie alla grazia ricevuta da Donald Trump negli ultimi giorni del suo mandato presidenziale. Uno che ha detto anche recentemente che Anthony Fauci, il più grande virologo d'America, andrebbe decapitato. L'anno dopo, nel 2019, c'era Viktor Orban, il leader ungherese, un uomo di estrema destra che ha permesso e autorizzato zone LGBT free, quindi ostili agli omosessuali. Scusate, questo è successo in Polonia, mi sono confuso, ma che ha comunque promosso in Ungheria leggi dure contro i magistrati, contro la libertà di informazione, quello che viene definito un autocrate. Ha avuto rapporti Giorgia Meloni fino a pochi mesi fa invece appunto con quei polacchi di cui parlavo prima che autorizzano nefandezze come le zone LGBT free. Tutto questo è stato dimenticato. Giorgia Meloni è ritornata al centro della scena omaggiata da tutti i leader. E questa è un'operazione molto brillante, ma significa anche che Giorgia Meloni si è trasformata, che il suo partito è diventato un partito diverso soltanto due mesi fa. In questa trasmissione abbiamo trasmesso la fortissima, splendida inchiesta di fanpage sulla lobby nera, sulle scorie neofascisti e legami con gruppi neofascisti dei partiti sovranisti italiani. Abbiamo mostrato pezzi di classe dirigente di Fratelli d'Italia indegni di un partito che siede in Parlamento. Nei giorni successivi, nelle settimane successive, si disse, lo disse il Partito Democratico col suo vicesegretario Provenzano, che Fratelli d'Italia non apparteneva all'arco repubblicano, era fuori dall'arco repubblicano per via del fatto anche della frequentazione di Giorgia Meloni con il partito neofranchista Vox in Spagna. Oggi è tutto dimenticato, oggi Giorgia Meloni è al centro del sistema perché in politica cambia tutto velocemente e i voti e il benestare di Giorgia Meloni servono e Giorgia Meloni è pronta a votare anche Draghi al Quirinale, lei che ospitava Bannon e che ospitava Orban, lei che è amica dei polacchi che sognano l'uscita dall'Europa. La politica cambia tutto, ma i partiti cambiano davvero? E il suo partito, a due mesi dalla inchiesta della lobby nera, si è sbarazzata di quei legami così imbarazzanti? A sentire le parole che lei usa nei nostri confronti, nei confronti della nostra trasmissione e anche del sottoscritto, lei sembra non rescedere di un attimo, ma ha usato questi stessi toni con Enrico Letta, con Giuseppe Conte, con Giorgetti, con Marta Cartabia? Ne dubitiamo, lì la sua veste era molto più istituzionale. Allora sentiamola, Giorgia Meloni, tornare sul cosiddetto luogo del delitto, diciamo così, cioè a commentare la lobby nera. A voi interessa raccontare il mostro dove il mostro non c'è? Sa cosa? Lo giudicano gli italiani se c'è un mostro e qui un mostro non c'è, perché lei si guarda intorno e mi dica se può raccontare la storia che state raccontando a Piazza Pulita da due mesi, facendo una monografia mentre intorno scoppia l'inferno di cristallo e fate finta di non vederlo. Ma non c'è una presa di politica però nei suoi confronti rispetto a Valcepina, rispetto alla presenza di Ionghi Lavarini che comunque è stato... La presenza di Ionghi Lavarini è stato un incidente. Ionghi Lavarini non è un dirigente di Fratelli d'Italia, Ionghi Lavarini io avevo dato indicazioni precise sul fatto che non andasse frequentato. Ciò non è successo ed è evidente nei fatti. Sì, infatti Carlo Fidanza è sospeso. Si è autosospeso però. No, Carlo Fidanza è sospeso, punto. Ha sospeso lei? Ha sospeso, sospeso, abbia pietà. Vi ha chiesto lei di fare un posto indietro. Abbia pietà, abbia pietà. Secondo lei come funzionano queste cose? Dopodiché la Valcepina neanche la conosceva a disposizione per cui di che stiamo parlando. Datemi 100 ore e io sono in grado di darvi qualche informazione in più. È quello che vi sto chiedendo per fare chiarezza. Perché non me le volete dare? Sa perché non me le volete dare? Perché non le avete. E Formiglia ha mandato una cosa. Con tutti i bravi redattori che ha nella sua redazione, ha mandato una cosa confezionata da altri in prima serata senza verificarla. Perché non viene in trasmissione e le chiede lei? Cosa? Ma guardi, 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 io vado a trasmissioni serie. Mi consente. Per me ha perso di qualsiasi credibilità. Mi dispiace. Credo che vi rendiate anche voi conto che ci sarebbero cose molto più serie in Italia sulle quali fare 7-8 puntate. Credo che ve ne rendiate conto anche voi quando vi guardate allo specchio. Sinceramente. Lei e Corrado Formiglia. Caro onorevole Meloni, senza entrare in polemiche personali, mi guardo allo specchio tutte le mattine. Le verifiche sull'inchiesta di Fanpage non soltanto le ho fatte e le abbiamo fatte accuratamente, ma le ha fatte la Procura che sta indagando e che ha certificato che i contenuti delle famose cento ore, come le chiama lei, sono coerenti con ciò che è stato mandato in onda. Ma ci torneremo su questo argomento e lo dico ai nostri telespettatori. Siamo andati a vedere due mesi dopo cosa è successo, cosa ne è stato delle lobby nera, come la severità di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini sono calati sui comportamenti censurabili dei rappresentanti di questi due partiti. Prima però voglio rivolgermi invece ad un personaggio che è un autentico beniamino della 7, del pubblico della 7, ed è un faro del pensiero progressista, il professore filosofo Massimo Cacciari. Massimo Cacciari negli ultimi tempi sta facendo storcere la bocca a molti. Molti si domandano, ma che cosa è successo al professor Cacciari? È diventato no Green Pass, ma non sarà diventato per caso addirittura no Vax? Frequenta gruppi di persone che dicono cose, che hanno teorie negazioniste o si avvicinano a quelle teorie? Noi continuiamo a stimare molto il professor Cacciari per le sue posizioni e per le sue battaglie. Però, insomma, c'è qualcosa che non torna negli studi che cita e nelle posizioni che tiene. E poi ci sono invece delle legittime battaglie di libertà e delle considerazioni, diciamo, sul nostro sistema democratico. E allora noi stasera abbiamo deciso di prendere molto sul serio il professor Cacciari e di provare a fare una verifica delle cose che dice. Grazie.